Sarà un video a pubblicizzare il contratto di fiume, la nuova modalità di governanza del fiume Hadda voluta dalla comunità montana di Sondrio. Immagini suggestive per far conoscere a tutti il percorso e le prerogative di questo progetto, che ha come obiettivo fondamentale l'aggregazione di diversi attori, istituzioni, enti, associazioni e realtà produttive in nome di un bene comune, il fiume Hadda. Il filmato è realizzato dal videomaker Simone Bracchi e presentato in antiprima al Sondrio Festival, è solo una delle tante proposte legate al contratto di fiume, ma è sembrato il modo migliore per far comprendere ai cittadini tutto ciò che riguarda un'iniziativa così importante come quella del contratto di fiume. Tre minuti che li percorrono non solo immagini del corso dell'Adda, ma anche scene di vita quotidiana e sport sulle rive del fiume, con una voce narrante ad illustrare i punti chiave del progetto. Con questo cortometraggio si cerca dunque di far soffermare il pubblico sulle bellezze legate al fiume Hadda, che spesso passano inosservate, ma anche sulle criticità che si incontrano sul fondo valle e lungo il corso dell'acqua. Stimoli per poter sensibilizzare sempre di più la popolazione su uno dei beni più preziosi del nostro comprensorio. Il video sarà presto diffuso oltre che sui canali social, anche sul sito della comunità montana, con il patrocinio di Legione Lombardia e Delsaf, e da martedì avrà anche un proprio logo, scelto fra le 113 proposte arrivate in comunità montana per il concorso grafico lanciato dall'ente.